...lo stesso modo, c'è chi è fatalista. Eh beh, se deve succedere, c'è chi è pessimista. Tanto andrà malissimo. E poi, c'è chi ha nuova Tiguan. Il futuro, tutto sotto controllo. Nuova Tiguan 1.6 TDI con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, mantenimento attivo della corsia e rilevatore della stanchezza di serie. Solo a giugno tu ha 26.500 euro. Scoprila in tutte le concessionarie. Info su volkswagen.it. Abituatevi al futuro. Ganna, sono c'era. C'è oro. Famite le scarpe, che il trato è pulito. Il mondo è la nostra casa. Sì, il verde di Santa Clara. Lieggo l'energetico e l'attività vegetale, che speccano l'anfonte e il futuro dei nostri kit efficaci per Santa Clara. Il volto, il verde di Santa Clara. Ciao. Sono Anna Maria, della ricemitoria in Piale della Libertà a Messina. Sono qui per darvi una notizia straordinaria. Il jackpot di Super inalotto continua a salire. Ha già superato i 60 milioni di euro. Prova a vincerlo.